ben trovati amici siamo sempre qui in campagna nella campagna cremonese oggi siamo spostati un po' verso Cadesoresini e ammiriamo la semina credo che sia del grano turco adesso aspettiamo che arriva Massimo l'agricoltore un po' verso Cadesoresini e ammiriamo la semina un po' verso Cadesoresini e ammiriamo la semina un po' verso un po' verso Cadesoresini e ammiriamo la semina 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 amici trovarvi è sempre un grandissimo piacere e noi ci sentiamo alla prossima ammiriamo la semina e ammiriamo la semina e ammiriamo la semina qui c'è il turbo MLT 940 120 HLSU Turbo Evolution Sì, Sì, Sì. Sì, Sì.